7.57 e dobbiamo partire un po in ritardo complimenti per lo stile eccoci qua un po in ritardo scazzo adesso aspettiamo mio padre e poi partiamo ci dovremmo mettere tipo un'ora in teoria siamo arrivati siamo già tutti belli guardati adesso siamo pronti per entrare in pista sentite da pochissimo allora vabbè possiamo perdere siamo già morti faceva malissimo le mani a un certo punto non le ho più sentite continuano ad andare bene allora Niente male, niente male Sono ritornato fra sempre a Natà Sempre sempre più cattivo sono un animale Sempre sempre più da solo fra sono a social A social è come va, tutto bene fra questa la novità E risorgo dalle cene e ritorno dall'aldilà Tanti strozzi nella vita ti chiedi come si fa Sei pieno di fazzità Oh shit Come si vede solo Cos'è che t'ha dato quello lì? Mi ha capato Allora, cosettina, inderino Allora Luca, stiamo andando forte eh E' il cazzo Mi ha dato più forte per ora è tuo padre E' vero Noni Slamosti youtuber come Kratos Trag del 2010, i recchi con la naso Tutto quello che ho fatto fra non è mica un caso A gare di cazzo, vinto con il naso Dai te vado di fretta, non sei fresco, sei una stufetta Dieci gap in una giacchetta, non sei finto, sei una cappetta Lato finché non esplodo, finché non finisce lo stovo Chiedo scusa ma non perdono, me la gatto prese stovo Scrivo questa bomba, dico niente male Senti questa bomba, dici niente male HELLO MUTHAFUCKER ragazzi vi raccomando portatevi calze di ricambio perché se no fanno questa fine siamo in questo ristorantino trattoria di classe siamo entrati e si è guardati tutti così ma schifo ovviamente quindi adesso mangiamo per fortuna cosa dico niente ma